Buongiorno, buongiorno a tutti. Farò una piccola introduzione del direttore, un saluto, dopodiché una domanda a testa, poi vediamo se alla fine riusciamo a fare altre domande. Ci siamo? Grazie per la presenza. Prima di tutto volevo salutare il capitano che non ci sarà più nel Frosinone, Nicolo Brighenti, lo volevo ringraziare a nome della società e personalmente, e dei suoi compagni che è stato un capitano vero, è stato sei anni qui a Frosinone, per cui un grande in bocca al lupo a Nicolo. Daniele Ciardi, Corriere dello Sport. Abbiamo chiuso il campionato in maniera importante dal punto di vista del gioco, forse un po' meno dei risultati, ci aspettiamo qualcosa in più. Il Presidente ha parlato di rammarico e non di delusione. Io so che invece lei è molto arrabbiato, anche un po' deluso. Non lo dirà, ma io lo so. Allora la domanda è dove dovrà migliorare il Frosinone? Innanzitutto a livello di organizzazione di gioco e tutto il resto, poi magari dopo che avrà parlato lei e entreremo nello specifico di qualche ruolo e di qualche nome. Dove dovrà migliorare il Frosinone? Al di là del fatto che mezza difesa sarà da rifare, il centrocampo già c'è e in attacco serve qualcosa. Allora, io non sono deluso e arrabbiato perché sarei un pazzo se sarei deluso e arrabbiato. dispiaciuto perché quando magari c'hai qualcosa che c'hai in mano e ti sfugge, uno si dispiace. Io invece devo fare complimenti al mio allenatore Fabio Grosso perché stamattina guardavo così, io non riguardo mai le statistiche perché non mi piace guardare le statistiche, vedo più, sono un po' pratico nel mio modo di ragionare. Abbiamo avuto una media di 1,50 a partita, abbiamo fatto grosso e da un anno e mezzo ha fatto 70 punti nel Frosinone e non ci dobbiamo dimenticare dell'operazione che abbiamo fatto quest'estate del cambiamento della filosofia di lavorare e di gioco perché qui eravate abituati, se vinto, perché avete vinto, perché per me voi siete come il Frosinone, perché lavorate e scrivete, in cinque anni avete vinto due campionati di Serie A per cui alzo le mani, però c'era un modo di ragionare che personalmente non è il mio modo di ragionare, nel senso si giocava più sulle seconde palle, più un altro tipo di gioco. Abbiamo cambiato filosofia, cioè può essere a chi può piacere e a chi non può piacere. Prima di tutto la filosofia dell'ingiomento della Rosa e dei giocatori. Mentalità. Ci sono state tante cose in un cambiamento radicale che è stato sinceramente all'inizio, se uno mi diceva ti salverai alla penultima partita, all'ultima partita, io ero felice a salvarmi. Poi nella partenza abbiamo avuto la fortuna di trovare 3-4 giocatori, che è successo non ci dimentichiamo, perché se no non li potevamo prendere mai, perché è fallito il Chievo. E siamo partiti, siamo partiti, con tante incognite, perché abbiamo preso ragazzi che venivano dalla Serie C, abbiamo preso qualche giovane in prestito di qualche squadra, perché non ci dobbiamo dimenticare che il pensiero iniziale della società era cambiamento di mentalità, migliorare, abbassare l'età della squadra e abbassare il mondo in calci, che è la cosa più importante, perché avevamo detto che dovevamo fare un calcio sostenibile, ma oggi non ci siamo a calcio sostenibile, perché quest'anno abbiamo avuto tanti giocatori in rosa che non giocavano, che pagavamo noi, per cui è stato un lavoro, credetemi, non difficile di più, sia da parte nostra come società e da parte dell'allenatore. Siamo partiti, ritiro, io sto facendo un po' il tenso conto della sua domanda, siamo partiti, ritiro, che eravamo 35 giocatori, 36 giocatori, neanche potevamo fare, neanche si potevano allenare bene. Poi è stato bravo lui, perché per me è stato bravo, bravissimo, a cambiare mentalità, a sviluppare un certo tipo di gioco. Abbiamo fatto delle partite, credetemi, che io mi sono divertito e mi chiamavano da tutta l'Italia, ma sia dalla squadra più bella, più forte, più... l'ultima partita che abbiamo fatto prima del mercato era... è stata a Parma, mi sembra, abbiamo fatto due partite, Pisa e Parma, sei punti, lì è stata l'apoteosi per me, per tutti quanti, anche per voi. Poi quando sono tornato mi avete fatto i complimenti a me, l'operazione, su tutte cose. Però devo essere sincero, come io prendo, diciamo, i complimenti, le cose, magari io personalmente ho sbagliato qualcosa, nel senso che a gennaio abbiamo tolto dei giocatori che costavano e che stavano nella rosa, non giocavano, perché non è che giocavano, stavano qualche presenza e ho messo dei ragazzi giovani, perché ragionando con la mia mentalità e ragionando in prospettiva ho detto, li inserisco, sono giovani, ci hanno sei mesi di apprendimento, l'anno prossimo possono essere dei giocatori bravi. Qualcuno si è ambientato, qualcuno no, perché erano tre stranieri, uno era italiano, Calai, che è nato in Italia, per cui anche se è straniero è italiano, e ci hanno fatto un po' di fatica. E l'allenatore si è trovato nell'ultimo periodo, perché poi, non vi scordate, chi si è apprendita si è fatto male. Ma queste non sono scuse, queste sono colpe miei, diciamo, della società. Garitano è stato tanto tempo fuori, Zampano è stato tanto tempo fuori, per cui abbiamo avuto un calo fisiologico e io dico lo scuso al mio allenatore, ma non è che gli do una colpa, anzi, gli devo fare i complimenti per quello che ha fatto, perché era una situazione brutta all'ultimo periodo, come rosa, cioè abbiamo avuto dei problemi, qualche partita ci siamo riusciti a risolvere, qualche partita no, per cui, cioè, tutto sommato, io dico che abbiamo fatto un'annata bellissima e abbiamo costruito qualcosa di importante per me, poi io accetto tutte le critiche, accetto tutte le discussioni che si possono fare, è giusto farsi e confrontarsi. Però io dico, se devo dare una colpa al passaggio, me l'assumo io la colpa, perché ho sbagliato io che magari, nella mia esperienza, in quel momento, noi eravamo terzi in classifica o quarti, ora non mi ricordo di preciso, dovevo dire, oh, prendo due giocatori magari in prestito di una certa levatura e non si sapeva come andava a finire, poi dà se avevamo più chance. Questo qua è una colpa che mi do io, però la mia colpa è perché io ragiono sempre alla prospettiva, cioè io ho un vizio che ho, che mi piace lavorare con i giovani, ho fatto un discorso che non pensavo di andare nei play-off o andare in Serie A, devo essere sincero, questo è stato una mia colpa. Rettore, buongiorno, Giovanni Giuliani dell'Universo, io mi soffermo su Fabio Grosso perché in questi giorni tante voci sul tecnico abruzzese, ipotesi Parma e quant'altro, io le chiedo, lei ha avuto modo di parlare ovviamente con il mister, si riparte da Grosso per la prossima stagione, quali sono, allora, qual è l'obiettivo, visto che siamo al secondo anno di questo progetto di Enale? Ancora crescere, non dico di classifica, io dico ancora crescere, cercare di abbattere certi costi, abbattere certi costi e cercare sempre di migliorare, a me piace come sto lavorando, sono orgoglioso di come stiamo lavorando, è una società secondo me che sta crescendo perché sta buttando le basi, noi abbiamo detto facciamo un programma triennale, questo è il secondo anno, però io non è che li posso chiedere al mio allenatore o ai miei collaboratori tutte cose in più, non è che posso dire facciamo un mercato roboante, dobbiamo fare un mercato come l'abbiamo fatto l'estate scorsa, con dei giocatori che dobbiamo essere bravi a trovarli, e poi bravo è l'allenatore che me li valorizza e il Frosinone cresce, continuo a fare patrimonio e cercare di abbassare sempre di più i costi, questo è il percorso. Direttore, buongiorno, Franco Turiziani di Giuceria Oggi, mi ricollego un attimo alla domanda che ha fatto Daniele, per dirle che sin dal primo incontro informale che avevamo, qualche giorno dopo il suo arrivo a Frosinone, lei spiegò già quale fosse la sua filosofia da gioco, e disse quello che adesso lei ha ripetuto, cioè che il Frosinone aveva vinto, però... No, ma per carità io non è... No, 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 senza... No, senza... Non è la polemica, perché vincere è difficilissimo in tutte le categorie e in tutte le... Intanto la strada per arrivare al successo era ben diversa da quella che piace a lei e che ha ottenuto quest'anno con grossa. Le chiedo, ecco la domanda, è mancata forse la continuità, è tutto questo, nei cittadini, ecco la continuità è la sticella che pone quest'anno la società come obiettivo da partiglia. Allora, sì, sì, ho capito la domanda e ho detto la colpa è mia se non c'è stata continuità, ma no, le spiego perché... L'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Gli ho detto prima, gli ho detto che, dato la mia esperienza, perché sono abbastanza anziano, calcistico... Non parli di anzianità. No, 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 che potevo fare qualcosa e poi c'è stata la sfortuna, ma succede nelle squadre di calcio, abbiamo avuto degli infortuni che non avevamo le adeguate alternative che io non sono stato in grado di rimetterle a gennaio. Io ragiono sempre in un modo che magari poi in quel momento è stato sbagliato, questo qua. Quest'anno cerchiamo di essere più continui, però senza avere la... Non è che dice dobbiamo arrivare perché quest'anno, se andate a vedere di nuovo le squadre che ci stanno, mi viene da piangere perché quest'anno è retrocesso Cagliari, Genoa... Venezia, Venezia non ho paura... Il Bari, sì, il Bari è una grande piazza, però non lo so... Però io vi dico, Cagliari e Genoa sono due portaerei, in più le squadre... Non vi scordate che c'è il Parma che aveva un Mondingaggi da Serie A, c'è il Brescia che non c'è andato, una fra Pisa e Monza non c'è, Benevento... Cioè voglio dire, il Benevento aveva tre volte Mondingaggi che avevamo noi, che è da premettere. Il nostro Mondingaggi era di tutta la rosa, ma c'erano cinque giocatori che stavano fuori, per scelta nostra, per cui il Mondingaggi era super... Quest'anno sono andati in scadenza tutti di contratto, insomma ci siamo un po' alleggeriti. Sarà un campionato difficilissimo, per cui la compattezza della società, la compattezza delle persone che lavorano con noi e la compattezza anche vostra, perché devo essere sincero, siete delle persone abbastanza... Non siete una stampa che criticate tantissimo, è giusto, è giusto che magari ci... Però non è che ci sta... Io sono stato in piazze dove non ti fanno neanche lavorare, tipo Bari, tipo Catania, tipo Perugia stesso, quando lavoravo a Perugia, insomma... L'unica cosa che ho trovato più o meno, se me la vuoi, è a Sassuolo, che non c'era nessuno, per cui non c'era una critica forte. Vai a Spezia tutti i giorni, è un martellamento continuo, per cui speriamo bene l'anno prossimo che faremmo una crescita un po' che... Io parlo non di classifico, una crescita di strutture, una crescita di patrimonio che stiamo mettendo in atto. Direttore, buongiorno, Alessandro Andrelli di G24 Radio Day, sono veloce così poi se posso ne faccio un'altra. A proposito di appunto programma triennale, in queste settimane, forse anche in questi mesi, ha avuto qualche offerta o quella percezione magari che l'hanno chiamata per proporle un progetto? Sì, per lei. C'è avuto qualcosa, però non neanche l'ho tenuto in considerazione, perché io mi sono preso, penso di essere una persona d'onore, mi sono preso un impegno con la famiglia Stirpe, quando sono arrivato l'anno scorso a ottobre, quando ho iniziato a lavorare qui, con un contratto lungo, con un contratto nel consiglio d'amministrazione, insomma, sinceramente, neanche ci ho pensato. Io sono concentrato a portare avanti il progetto che mi ha incaricato la società di portare avanti, io cerco nel migliore dei modi di portarlo avanti. Magari qualche volta sbaglierò, commetto qualche errore, però penso che sia umano. e vado avanti, ma neanche ci ho pensato. Direttore? Sì, prego. Allora, io ti faccio adesso due domande, ma molto rapide, e poi dopo, se ci sarà tempo, voglio parlare della primavera. Sì, sì, ma siamo qua. Sì, no, per rispetto anche agli altri che devono fare domande. Sì, sì, no, ma c'è. Sì, perché la primavera, quello che sta facendo, merita assolutamente che diciamo qualcosa. Allora, Charpentier, se avete, a questo momento della stagione appena fatta, se avete maturato qualche idea, considerato che il Genoa ha il controriscatto, e soprattutto col fatto che lui, ecco, ha due gravi infortuni, non è roba da sottovalutare. E la seconda, se ti sei già visto con il Presidente, se comunque avete già elaborato un'idea di massima, su come vi muoverete, su base di quale giocatore? Non, magari non nomi, ruoli. C'è la parte che il Presidente, noi ci siamo visti con il Presidente, mi sento tutti i giorni. Cioè, il Presidente è uno che prima di mezzanotte ti chiama e vuole sapere tutto, e io gli spiego tutte le cose. E allora, ritornando a Charpentier, per me è un giocatore forte, molto forte. Ci ha avuto qualche problema, pure lì abbiamo fatto un'analisi, lui è arrivato, non è arrivato in preparazione con noi, è arrivato che non è... perché Genova l'aveva messo lì, l'aveva buttato, nessuno ci credeva, e noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato, ha fatto 20 presenze e 10 gol. C'è una media gol pazzesca. Da quando non c'è stato più lui, noi abbiamo fatto fatica, mi dispiace dirlo, era il più bravo giocatore che c'avevamo. Io personalmente penso di riscattarlo, perché io ci credo a questo giocatore, è un 99, curato bene, ha bisogno di essere eseguito, di fare un'alimentazione speciale, perché lui non ha... non ha cultura del lavoro, nel senso, non è che non lavora, perché non ha... un atleta si deve controllare a mangiare, a riposare, sono tante piccole cose che deve fare, e secondo me, io ho visto giocatori peggio di lui, che giocano, che fanno. Io personalmente penso di riscattarlo, poi cosa fa il Genoa, non lo so, non posso dire, se ce lo lascia, sarei l'uomo più felice del mondo, se non ce lo lascia, pazienza, ne troveremo un altro, però, Schiappendier per me, io, al 100%, lì c'è Piero Doronzo, stamattina quando sono arrivato, Piero, cosa ti ho detto? di preparare il riscatto, perché lo voglio riscattare, poi dopo, se fanno il contro riscatto, pazienza, non è che... però, in giocatore, io ci credo molto, come ci crede molto grosso. Direttore, buongiorno, Andrea Campione, Lefrosinone, ITFM, ha detto che il Capitano non ci sarà più, quindi non rinnoverà, le altre situazioni, per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, quali sono? E le chiedo, se verrà riscattato Baricic? Allora, Capitano e Zampano, non ci saranno più neanche Zampano, già abbiamo fatto un contratto a Minelli, ai prossimi due anni c'è a Minelli, Simischi, i prossimi tre anni ha fatto un contratto, e Rodenno un anno di allungamento di contratto, perché quelli superiori ai 30 anni, lo faccio ogni anno, quelli inferiori qualcosa di più, questa è la politica societaria. Baricic la vedo difficile, perché ha un riscatto molto alto, sinceramente non ho un giocatore forte, di prospettiva in 2001, però in questo momento c'è un costo elevato, secondo me, se andavamo in Serie A, magari c'era la possibilità, in Serie B non rientra nei nostri parametri. Grazie a lei. Direttore, buongiorno, Angelo Battisti di Extra TV, vorrò guardare in prospettiva un po', anche io, mi permetto. Ha già delle priorità per il prossimo mercato, intendo di ruoli, di reparti? Io vi dico i ruoli, posso dire così, dobbiamo trovare un portiere, che può essere la paglia, può essere un altro, però un altro portiere, poi dobbiamo trovare tre barra quattro difensori, centrocampisti sono d'accordo, tranne che va via qualcuno, che magari va via qualcuno, cercherò di trovare un centrocampista, e poi un esterno e una punta. Oggi questi ruoli qua, poi dopo magari va via qualcuno, mi rientrano dei giocatori, che bisogna valutarli, perché rientrano due o tre giocatori nostri, che stanno fuori, valuteremo più avanti, però quelli sono i ruoli che ho detto, che sono alla ricerca. Ciao direttore, Roberto De Luca, all'inchiesta di Politeano, e ti chiedo se puoi farci una panoramica, sui ragazzi che sono andati a giocare in prestito, quindi che esperienze sono state, in termini formativi, e in particolare a proposito di portiere, che considerazione ha il Frosinone di Vettorell, che tanto bene ha fatto a Carrara, lui ha il contratto di scadenza il prossimo anno, se c'è la possibilità che il Frosinone, continui a investire su di lui. Stiamo valutando, se riportarlo a casa, o se no, mandarlo un altro anno a fare un'esperienza, per farlo crescere, allungando il contratto. E poi gli altri, sinceramente, in questo momento, sono tutti ragazzi che, qualcuno ha giocato poco, qualcuno ha fatto qualche spezzone, sono in una fase di crescita, vediamo, c'è da valutare, perché se rientrano parecchi ragazzi, penso che li rimandiamo di nuovo a giocare, la maggior parte di quelli giovani. non voglio anticipare Rolando Mignini, ma è una domanda che già avevo in testa. Nel discorso che lei quest'anno ha fatto con i vari Clitten, Klobar, Kremenovic, alla luce di quello che ha fatto la primavera quest'anno, quel discorso quest'anno potrebbe essere fatto per i Maestrelli, per i Bragaglia, per i 2003 che bene o male comunque usciranno dalla primavera? Dobbiamo fare una valutazione, qualche ragazzo c'è da aggregare e vedere un attimo come crescono. Qualche ragazzo c'è. Ora non faccio nomi, perché non mi piace fare nomi. I ragazzi hanno una finale, per cui sono tutti bravi, però qualcuno, qualcuno, già l'anno scorso ci siamo portati 4-5 ragazzi a ritiro. e siamo portati Irillo, Cagianiello, ce n'era un altro, Ale Saghera, Palmisali, Paic, insomma, sono stati ritiro con noi, li valutiamo, vediamo un po' quanti giocatori c'ho, perché non devo mettere neanche in difficoltà l'allenatore come ho fatto l'anno scorso. Cioè, questa è una cosa importante. però ci sono dei ragazzi che stanno dimostrando che possono crescere facendo un percorso importante secondo me con i giovani e lasciatevelo dire c'è un'esperienza abbastanza lunga che fanno il percorso giusto. Quest'anno ho mandato dei ragazzi a giocare in Cina e non hanno giocato. Qualcuno ha qualche presenza. Per cui bisogna stare attenti a questi ragazzi e il percorso che gli facciamo fare. Di Vitalucci io so che vi hanno chiesto e voi gli avete concesso un altro anno di prestito. No, ce l'hanno chiesto stiamo valutando. Ah, perché a me risulta che ha fatto una grande stagione. Ha fatto bene, ha avuto alte e basse ma è normale quando esci il primo anno della primavera ma non del Frosinone ma di tutte le primevere fai un po' di fatica. E io vi faccio un esempio. un giocatore come Boloca giocava in Interregionale che veniva dalla Juve ma è stato scartato ha fatto un percorso se è valorizzato. Zerbinne Zerbinne ha fatto un percorso di Interregionale C due anni ha fatto la Serie C e poi è arrivato qui e ha dimostrato ma perché ha fatto il percorso hanno fatto le partite. Se noi, ripeto siamo bravi perché poi dipende anche dalla società i ragazzi la primavera sta dimostrando di essere una buona squadra allenata bene e se fanno il percorso qualche giocatore fra qualche anno può venire fuori dal settore giovanile cioè era era un impegno che ci eravamo presi da quest'estate di migliorare il settore giovanile. Qui abbiamo Alessandro che è stato bravissimo a fare la primavera per cui sta facendo anche lui essendo giovane sta facendo esperienza di rompere un po' le scatole però cresce bene. Ecco allora mi hai già risposto e quindi non ti faccio la domanda sulla primavera volevo solo dirti che tu con Stilpe sei un po' fortunato perché la maggior parte dei presidenti chiamano la mattina alle 7 tu che ti chiama la sera tardi a te va bene uguale. Direttore hai già individuato i nuovi giocatori stile gatti che potrebbero essere all'altezza stile gatti mi rendo conto che è molto difficile però magari qualcuno può uscirci e se sono arrivate offerte per qualche ragazzo? Per qualche giocatore sono arrivato delle offerte però a questo momento sinceramente non già abbiamo un po' di difficoltà a costruire la squadra per cui a me mi piacerebbe che ogni anno uno barra due giocatori riusciamo a fargli fare il salto di qualità per cercare di fare il calcio sostenibile che vuole fare il presidente e voglio fare io pure non è facile perché se voi vedete tutte le squadre di Serie B a parte le corazzate Benevento Monza e Parma che hanno dei gruppi dietro grossissimi si mettono sempre soldi tutti quanti Direttore le chiedo innanzitutto se se le va di esprimere anche un giudizio su questi tifosi che comunque già lo scorso anno aveva visto e che quest'anno chiaramente fortunatamente sono tornati allo stadio sono stati splendidi forti guarda c'è stato qualche giocatore che mi ha detto l'ultima partita che non siamo andati insomma ai playoff che l'hanno applaudito tutti sono rimasti scioccati nel senso del modo come hanno di fatto io un po' li conoscevo perché un anno quando sono venuto con Sassuolo che noi siamo andati in Europa League e voi siete l'ultima partita retrocessi e se tutto lo stadio è da applaudire la squadra è una cosa bellissima penso che loro vogliono vedere la squadra che lotta che gioca e dopo il risultato sì però ti perdono l'anno scorso invece ci hanno giustamente ci hanno criticato e avevano il diritto di criticarci invece quest'anno è stato non dico una passeggiata però è stato bello per tutti si divertivano specialmente il girone di andata abbiamo fatto delle partite bellissime ma è pure il girone di ritorno l'ultima partita magari in questo momento pensiamo all'ultima partita però abbiamo battuto tutte le squadre che sono arrivate nei primi otto posti non di scordare la terz'ultima partita abbiamo battuto il Monza 4-1 abbiamo battuto il Cremonese il Benevento cioè ci siamo divertiti io mi sono divertito penso pure voi vi siete divertiti perché non mi scordo tutti gli articoli che facevate a esaltare l'allenatore a esaltare i giocatori per cui dobbiamo essere contenti soddisfatti poi dopo uno dice è un po' dispiaciuto perché eri lì non ci siamo riusciti però pazienza non è però è stato fatto un lavoro un grande lavoro per cui dico bravi all'allenatore allo staff e ai giocatori mi fa un assist chiedo scusa a tutti però questa me l'ero segnata ha parlato di crescita di tutto l'ambiente questa crescita e potenziamento riguarderà tutti i settori settore giovanile settore femminile prima squadra tutto ma ci mancherebbe non è che si è in una società che cresce la prima squadra e il settore giovanile non cresce o il settore femminile fa parte del frosinone per cui bisogna sempre migliorare ci vuole tempo il calcio femminile è iniziato l'anno scorso il percorso io sono arrivato che mi sa che manco c'era abbiamo iniziato l'anno scorso abbiamo iniziato per cui abbiamo delle difficoltà perché non ci sono campi di allenamento ci sono ci sono delle difficoltà che col tempo noi siamo convinti che le risolviamo perché la società ha in mente due strutture importanti che ci sta lavorando per cui sarà tutto rinforzato nel senso che la società vuole crescere tra le righe prima ha parlato della possibilità di riavere ravaglia quindi era un prestito secco che probabilmente può restare c'è una possibilità su 100 me ne dì almeno una su 100 di poter riavere Zerbin pensa che io farò di tutto per riaverlo però non dipende dal Frosinone non dipende neanche da ragazzo dipende dalla proprietà del Napoli è un giocatore che è cresciuto moltissimo proprio in un modo pazzesco sinceramente non mi aspettavo manco io quella crescita là ma è stato perché lui ha fatto il lavoro perché lui è atleta dentro la testa lui ha fatto un lavoro pazzesco perché quando l'abbiamo preso noi lui neanche lui aveva fatto la preparazione ha avuto problemi a pub però si è messo a lavorare a lavorare a lavorare a lavorare è stato diciamo un uomo in più come come il serpentier erano tutti e due il Napoli quando l'ho preso non mi ha voluto dare manco ma niente cioè niente niente però siccome personalmente lo conoscevano in pochi io lo conoscevo lo volevo a tutti i costi e l'ho preso ha detto pazienza lo prendo poi a fine anno mi dai il diritto di riscatto c'è stato un momento c'è stato un momento che stavamo facendo perché neanche loro non è che ci credevano tantissimo stavamo facendo uno scampio gatti con dei soldi con il serbino in mezzo io gli ho detto sì 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 poi dopo siamo andati lì a a Monza che ha fatto una partita che ha fatto due gol quello mi ha detto scusa ma se tu vuoi quei soldi là di gatti che è un difensore lui che fa gol vale non ti dico che vale di più ma vale come a gatti per cui a quel punto lì ho detto vabbè lasciamo perdere vediamo altre cose ci sono se ci avete domande fate io non c'ho non c'ho se non vi ricordate qualcosa anzi facciamo i complimenti però si deve vincere domenica te lo dico davanti all'office se no se no non serve a te a Giorgio e ragazzi se no fai la fine che abbiamo fatto noi da chi si aspetta qualcosa in più per quanto riguarda il parco giocatori l'anno prossimo e su chi è pronto a scommettere invece chi potrebbe essere il nuovo crack all'interno del Frosinone grazie ma io mi aspetto dai giocatori più grandi più esperti che danno qualcosa in più i giovani si sa che devono fare una crescita una crescita che ci vuole del tempo io penso che ci sono dei ragazzi giovani tipo Oiono Calai sono dei ragazzi che in prospettiva faranno a me a a a come si chiama ragazzi interessanti che devono fare il percorso ragazzi come Gatti sinceramente non è facile trovarli perché Gatti ha tutto ha personalità ha forza ha tecnica ha esuberanza sono doti quelli che ce l'ha innati lui ce l'aveva innati siamo stati fortunati che ce lo siamo goduto un anno e abbiamo fatto pure una bella posvalenza per cui siamo stati fortunati speriamo di trovare un altro ragazzo che può fare un percorso importante se continua come ha fatto quest'anno che il primo anno che è venuto ha giocato pochissimo poi l'anno scorso piano piano è partito da ritiro e ha fatto ha avuto una crescita importante e ora si deve riconfermare ecco ringrazio Massimiliano che mi dà quest'ultima allora su Zerbin io ho anche intervistato il suo procuratore Furio Colombo quando gli ho detto che noi speravamo se proprio non c'era possibilità mi ha detto non mi fai la domanda se no ti rispondo male Furio Valcareggi chiedo scusa e soprattutto domani Gatti si presenta con la scritta ancora fra parentesi Frosinone è il primo giocatore che va anche se è uno stage ma è sempre la nazionale possiamo anche chiudere su questa soddisfazione io penso è una soddisfazione da parte di tutti quanti perché se uno arriva a questi livelli anche grazie sia alla società all'allenatore e compagni ma anche grazie alla stampa è tutto un insieme che si arriva a ottenere certi risultati per cui noi siamo contenti io spero che pure a voi vi è passato un po' di incazzatura pensiamo all'anno prossimo dispiacere no incazzatura dispiacere grazie grazie a voi grazie a voi